care teste fiorite buon venerdì e bentornati alla rubrica video che oggi è dedicata ad un autore in particolare quindi è una rubrica monografica è un autore che amo moltissimo un autore direi imprescindibile non so se riuscirò mai a pronunciare il suo nome correttamente visto che è orientale si chiama chen yang hong e i suoi albi sono di una potenza eccezionale per cui vorrei mostrarveli mi manca dell'intera bibliografia sotto mano un paio due tre titoli ma insomma credo che da quelli che vedrete in questo breve video un'idea ve la sarete fatta ecco innanzitutto vi voglio mostrare che il numero di anderson della rivista anderson del maggio 2020 quindi di pochi mesi fa è dedicato in apertura con l'editoriale di walter foch esatto proprio a quest'autore e quindi se siete curiosi io andrei approfondire innanzitutto leggendo questo contributo di walter foch esatto da cui trago la citazione per partire col mostrarvi questi questi albi eccezionali in tutti i libri di chang si assiste a questa tensione morale dove la leggenda o la fiaba o il mito nella fortissima intensità del racconto nella piena bellezza delle immagini diventano elemento di riflessione sulla vita c'è non vuole mai insegnarci nulla ma quasi per mano accompagna il lettore in un mondo di alti sentimenti di rapporti ancestrali con la natura e gli animali di mutamenti e processi di formazione di lotto e contro i soprusi del potere le ingiustizie di amore per le piccole cose ecco questa è la sintesi che mi pare assolutamente magistrale come sa essere foch esatto del lavoro di cenni al long che anche molto riconoscibile dal punto di vista iconografico per la sua tecnica straordinaria lui lavora tantissimo con tecniche pittoriche tradizionali orientali la china su china e colori su seta addirittura insomma con una forza soprattutto dal punto di vista secondo me del colore e della luce delle illustrazioni che pochissimi illustratori riescono ad ottenere questo è il principe tigre edito da babalibri questo il formato originale quello grande è probabilmente o almeno per me resta il suo albo più più potente e la storia di una tigre a cui vengono uccisi piccoli e che impazzita dal dolore comincia a distruggere tutti i villaggi degli umani che incontra l'imperatore vuole condurre una campagna contro la tigre mentre la saggia del villaggio gli dice no non devi fare la guerra alla tigre devi darle tuo figlio e nel momento in cui il bambino senza nessuna paura entra nella foresta e barca e territori della tigre la tigre lo prende tra le sue fauci e lì si ricorda di quando teneva i suoi cuccioli tra le sue fauci e lì scatta qualcosa scatta forse un transfer direbbe freud qualcosa per cui il bambino comincia a vivere a crescere in questo doppio status tra umano e animale la fine eccezionale dell'albo è quella in cui il ragazzo ormai torna al suo mondo degli umani e la sua mamma imperatrice al suo padre imperatore ma ogni anno torna dalla tigre e finché non gli porterà suo figlio perché non si può essere grandi imperatori e grandi re grandi governatori senza essere anche dei grandi animali dell'avere entrambi gli elementi quelli quello della natura e della anche dell'affettività che contraddistingono non solo il mondo umano ma anche quello ferino il principe tigre è un albo potentissimo se mi chiedete a che età può essere letto direi qualunque dai tre anni in su dubito che qualche bambino potrebbe non innamorarsi di questa tigre poi in questo formato diverso c'è della collana baba boom quella attascabile vi presento invece il cavallo magico di hang on che è di hang on scusatemi che esiste anche in albo grande la storia di un pittore di cavalli ispirato ad una storia vera di un pittore di cavalli dipingeva così bene che poi cavalli diventavano veri dipinge un cavallo straordinario per un guerriero che combatte che vince tutte le sue battaglie grazie a questo cavallo ma il cavallo tutto sporco di sangue un certo punto di questo sangue di questo terrore che generano ne può più e quindi scappa dal suo padrone guerriero e torna a far parte del dipinto del del pittore quindi è un cavallo che si ribella la violenza degli umani ancora una volta come il principe tigre il demone della foresta è anche una storia di convivenza c'è sempre una storia di convivenza tra mondi in hong può essere il mondo ferino il mondo umano in questo caso del demone della foresta è il mondo invece dei demoni appunto quindi un mondo mitologico mitico e quello umano ma c'è sempre questa doppia componente luna non può esistere senza l'altra e si mitigano solo quando trovano un equilibrio tra tra di loro ma questo equilibrio richiede sempre uno sforzo dell'uomo verso l'altro mondo non viceversa quindi l'uomo che deve accogliere un punto di vista diverso per poi essere sostenuto e nutrito e vincere di fatto grazie proprio a questo suo cedimento iniziale e verso l'altro mondo sun è un'altra storia tra mito e umano questo bambino che decide di spostare le montagne che bloccano la visuale della sua casa e rendono molto molto difficile la vita dei suoi genitori sposta comincia a spostare le montagne pietra per pietra finché dopo tantissimo tempo una volta provato il coraggio e direi proprio la resilienza di questo bambino compaiono tre draghi ad aiutarlo e le montagne vengono spostate davvero anche qui siamo sulla soglia di due mondi lo stesso succede per questo albo bellissimo che non è edito da babalibri come quelli precedenti ma da camello zampa ed è il piccolo pescatore lo scheletro questa è la storia addirittura di un incrocio tra l'umano e il regno dei morti perché questo bambino da solo che va a pescare pesca niente di meno che un terrificantissimo scheletro che però una volta ha portato a casa contro la sua voglia a dir la verità il bambino se lo trova attaccato alla barca e si stanca talmente tanto insomma il bambino cede ad un certo punto però lo scheletro si prende cura del bambino lo riporta a casa ea quel punto il bambino si prende cura dello scheletro che man mano che beve e che mangia torna ad essere umano e bambino grande e uomo che ormai lo scheletro è tornato ad essere un uomo ritornano a pescare questa volta insieme quei due mondi che si incontrano sono quelli dell'umano e dell'oltre tomba direi che però torna ad essere umano anche qui con uno sforzo di da parte di entrambi i mondi per incontrarsi per venirsi incontro chiudo con questo albo che credo sia purtroppo fuori catalogo farò ai miracoli è illustrato da hong ma non è scritto da lui è scritto da su simon gangster edito da ippocampo e qui siamo davanti ad un'altra caratteristica degli albi di hong che portano avanti dei contenuti ideologici ideologici nel senso buono e nel senso più ampio del termine c'è anche un libro dedicato ma un albo illustrato per bambini dedicato a mao insomma tutto quella filone di hong che sostiene l'umanità non in una relazione appunto tra il fiabesco il mitico nell'incontro tramondi ma nel potere proprio dell'umano farò i miracoli e la storia di questo bambino che si presuppone vuole pensa che cosa potrà far da grande vorrà fare i miracoli dallo far sparire le malattie a non far venire più guerre e via dicendo si chiude però naturalmente con va bene farò tutte queste cose sì ma prima però non saprei forse imparare a leggere dovrei ecco hong è un autore che secondo me non incontrare sulla propria strada sarebbe proprio un peccato e almeno alcuni dei suoi albi a cominciare dal principe tigre credo siano tra gli imperdibili e immancabili in qualunque biblioteca scolastica dell'infanzia della scuola primaria e in alcuni casi mi azzarderei a dire tranquillamente anche della scuola secondaria di primo grado ci vediamo venerdì prossimo grazie teste fiorite se i miei video vi piacciono se il canale vi vi piace vi convince vi invito come sempre a mettere mi piace al video e a seguire il canale così da essere sempre aggiornati ciao teste fiorite